Tanto affetto, niente paura. Con questo slogan, la Regione Marche ha stilato un elenco delle misure da adottare per chi sia risultato positivo al coronavirus e abbia animali in casa. Al 2 aprile scorso, a fronte di 800.000 casi confermati nel mondo di Covid nell'uomo, sono solamente 4 quelli documentati di positività negli animali da compagnia. Due cani e un gatto a Hong Kong e un gatto in Belgio. All'origine dell'infezione vi sarebbe però la malattia dei proprietari. È da precisare che al momento non esiste alcuna evidenza che possano trasmettere il virus all'uomo. La raccomandazione generale è quella di evitare uno stretto contatto con loro ed è necessario rispettare sempre le buone misure igieniche, il lavaggio delle mani prima e dopo averli accarezzati, nonché prima di toccare il loro cibo o le provviste, ed evitare di baciarli. Bisogna pulire e disinfettare tutti i giorni le sue ciotole, ma anche le superfici in cui sta il nostro amico peloso. Se il padrone è positivo, deve indossare guanti monouso e una mascherina chirurgica quando si avvicina o accudisce l'animale da compagnia. Se questi ultimi vivono in casa, devono soggiornare in altre stanze o se ciò non è possibile, bisogna mantenere almeno un metro di distanza. Invece, chi vuole portare il cane a fare una passeggiata, come la persona convivente non sottoposta a isolamento, deve indossare mascherine e guanti e usare un guinzaglio pulito e disinfettato. Se poi il servizio è effettuato da un parente, un conoscente, un'associazione, alla consegna l'amico a quattro zampe deve essere legato all'esterno per evitare che la persona incaricata entri in casa. Infine, in caso di emergenza, è necessario rivolgersi al veterinario di fiducia per stabilire le modalità di trasporto dell'animale nella struttura sanitaria.